Ciao a tutti ragazzi, io sono Gianluca, questo è Ettore dei Maghi e siamo un'altra volta di unboxing. Ricordo, almeno una volta a settimana, faremo dei video dove faremo vedere nel dettaglio alcune action figure originali, visto che ci avete chiesto come mai quando le comprate da Wish non sono così. Ma andiamo oltre. Allora, eccoli qua i due unboxing di oggi, ricordatevi che se vi piacciono i nostri contenuti potete iscrivervi al canale che trovate scritto qui da qualche parte, poi la faremo con le varie grafiche. Quindi signori, partiamo subito con l'unboxing di action figure di Mediacademia e l'action figure di Bleach. E non lo so, andiamo ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ed eccolo qua. Abbiamo aperto il primo. Guardate che spettacolo. C'è un pochettino di luce blu, però forse era meglio anche senza. Perché devo guardare quanto è figo. Ultimamente sto notando che il dettaglio sul viso di queste action figure è veramente spettacolare. Comunque ora passiamo all'apertura del secondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoli qui in tutto il loro splendore. Signori, naturalmente spedizioni cadute in tutta Italia per acquisti superiori ai 25€ su mangacomicsmarket.it e ci vediamo per il prossimo video. Ricordate ragazzi di mettere like a Torre di Magifometteria. Ciao ragazzi!